ciao amici ben trovati sul canale oggi un video dedicato alle pulizie in modo particolare dedicato al bucato come vedete davanti a me ho una scatola di un prodotto che si chiama l'isciva l'avrete sentita nominare tutti quanti dice lavare secondo natura è un prodotto certificato icea idonea sia per bucato a mano che per bucato in lavatrice allora qua dietro possiamo leggere la sua storia dice l'antica l'isciva è la stessa che conoscevano bene le nostre nonne bisnonne con la sola aggiunta di profumo il prodotto è composto di sali solubili in acqua non contiene composti di fosforo sbiancanti ottici e anti e anti anti impaccanti assicurando così un lavaggio economico nel rispetto dell'ambiente viene utilizzata anche al posto dei comuni detersivi sintetici in polvere relata sia per il bucato a mano che per il bucato in lavatrice allora questo è un chilo di prodotto io l'ho trovato da ipersop ora non ricordo quanto l'ho pagato ma non l'ho pagato sicuramente l'ho pagato sicuramente poco può essere utilizzata a 30 gradi 60 gradi 90 90 gradi non aggredisce il colore e rispetta l'ambiente allora io l'ho utilizzata qualche volta non per il bucato ma bensì aggiunta ho fatto un bel secchio d'acqua calda l'ho aggiunto un cucchiaio e sono andata a lavare il pavimento devo dire che il risultato mi è piaciuto molto perché toglieva proprio realmente via lo sporco dal pavimento adesso la voglio provare con voi il lavatrice e vedere se funziona davvero esistono poi vari metodi per prepararla anche in casa è un po più è un po più laborioso io sarei curiosa di provarla di provarlo a fare in casa ma per ora mi accontento di questa anche perché c'è scritto che ha un prodotto certificato appunto icea allora per il bucato in lavatrice consiglia di utilizzarne 60 grammi io ho pesato 60 grammi e l'ho messa in questa pallina del dash quindi voi vedete più o meno è piena per per tre quarti non è piena sino all'orlo adesso ci trasferiamo in bagno e vediamo che cosa vediamo come avvio appunto la lavatrice ragazze eccoci qui questa è la lavetta che io andrò a mettere sempre la solita lavetta di nux che utilizzato per struccarmi la vado a mettere in lavatrice insieme insieme a questo tappo dosatore con appunto la lisciva chiudo se riesco senza far disastri perché ne ho già fatto uno mi volato giù tutto tutto quanto l'ammorbidente chiudo e avvio riduco un po la temperatura e il tempo e faccio partire 60 gradi la lavatrice parte e noi ci vediamo poi domani per vedere il risultato finale a domani ciao ciao eccoci qua ragazze la lavatrice ha finito come potete vedere io la spengo e ora vado a recuperare la lavette che avevo messo dentro al cestello ieri sera e vediamo che cosa è successo se questa lisciva quindi questo detersivo completamente naturale ha pulito a fondo la lavette oppure no allora ragazze questa è la lavette che ho recuperato è completamente pulita è venuta super super pulita direi praticamente perfetta e non ho aggiunto nessun additivo di tipo sbiancante igienizzante non ho aggiunto nulla vi volevo anche poi far vedere questo strofinaccio che è uno strofinaccio che io ho utilizzato perché un giorno cioè non è che lo utilizzo solo un giorno ma l'ho utilizzato perché era parecchio sporco perché mi era uscito fuori praticamente il caffè io ero distratta ed era andato praticamente da tutte le parti e quindi subito sono andato ad asciugare con con questo vi posso garantire che è praticamente bianchissima e pulitissima quindi è un prodotto super super promosso che io ricomprerò sicuramente perché è un prodotto assolutamente naturale se io trovo qualcosa di naturale che mi pulisce a fondo quindi che mi va a togliere quelle che sono le macchie lo sporco e così via io sicuramente prediligo ad una soluzione di tipo naturale che ad altri tipi di di prodotti quindi questo è super super promosso devo dire che mi ha soddisfatta assolutamente in pieno sia per la lavette ma anche per per lo straccio devo dire che avevo anche altre lavette che però sono tutto uguali che io appunto non vi ho mostrato perché erano diversi cioè erano diversi da questa tutto uguale tra di loro quindi si potevano anche confondere ma questa è l'unica appunto che io ho di di nux ed è assolutamente perfetta quindi un prodotto super super promosso che io vi consiglio assolutamente un bacio a tutte alla prossima